Sono state oltre 500 le persone controllate durante i giorni di festa appena trascorsi dai carabinieri della Compagnia di Pescara nell'ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio. Più di 30 le persone contravvenzionate per violazioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico, contestata una guida sotto influenza dell'alcol, arrestato in flagranza un giovane per maltrattamenti in famiglia. L'operazione è stata portata a termine nel corso della settimana santa, ha interessato tutti i comuni della giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di Pescara, oltre alla città capoluogo anche i comuni di Spoltore, Cappelle sul Tavo, Cepagatti e Pianella ed ha visto l'impiego massiccio di pattuglie dislocate nei punti nevralgici delle principali vie di comunicazione e nei centri abitati. In particolare a Pescara sono state elevate 23 sanzioni per violazione alle disposizioni in materia di contenimento del fenomeno pandemico a persone di età compresa tra i 20 e 35 anni per non aver rispettato il divieto di spostamento infracomunale, non aver rispettato l'obbligo di permanenza in casa dalle ore 22 alle ore 5 e l'obbligo di indossare la mascherina. 5 le violazioni contestate dai carabinieri della stazione di Pianella, 4 da quelli della stazione di Spoltore. L'arresto in flagranza eseguito per il reato di maltrattamenti in famiglia è stato invece eseguito sempre dalle gazzelle del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Pescara a seguito di una segnalazione arrivata da una donna che rifugiatasi in camera da letto per sfuggire all'ira del compagno con il proprio cellulare ha contattato il 112. L'uomo che aveva sfondato la porta d'ingresso dell'appartamento è stato fermato dai carabinieri che lo hanno bloccato nell'androne delle scale mentre si stava allontanando dal palazzo.